Il mio compito è quello di andare un po' a sfrucugliare nel mondo dei sogni, poi lascio a Riccardo la facoltà di portarvi altrove, ma quello che a me preme è riportare la vostra attenzione sull'ultima frase del filmato, c'è una parola, together, che a qualcuno dovrebbe far tornare alla memoria un'esperienza che abbiamo compiuto sei anni fa, si chiamava Expo 2015 e lo slogan del sistema Brescia per Expo 2015 era together, insieme, tutti. Questo è un aspetto non trascurabile perché insieme tutti vuol dire non lasciare fuori nessuno, vuol dire tener conto di tutte le esperienze che sono già state fatte e pensare ad esperienze che potranno venire insieme a coloro che le stanno vivendo, studiando, facendo. Nessuno resta tagliato fuori da un sistema che prevede la partecipazione corale di tutto il sistema bresciano perché questa sfida cambia il volto della nostra città e del nostro territorio. Non può quindi prescindere dal fatto che ognuno dovrà portare il proprio contributo. Abbiamo progetti fantastici già in atto e questi progetti saranno il fattor comune, saranno l'ispirazione di un altro progetto ancora più grande che li vuole raccogliere tutti. Non ci sono esclusive in questo progetto, ci sono solo opportunità. E la parola opportunità vuol dire attraversare una porta, andare oltre, andare dove. E qui riporto un'altra suggestione di quegli anni. Vi voglio fare fare un viaggio, un viaggio che è legato a una frase. Ix sunt leones. I romani, si dice, la usassero per indicare i territori dell'Africa, non ancora conosciuti, fuori dal controllo dell'impero, dove c'erano leoni, l'ignoto, l'orizzonte oltre il quale non so cosa mi aspetterà. Qualcosa che non c'era e che porse potrà essere scoperto grazie all'intraprendenza di tutti. Non è solo terrore e ansia del non conoscere, è anche voglia di scoprire. C'è un altro aspetto di questa frase che è stato usato da Umberto Eco nel nome della Rosa, quando all'interno della biblioteca, nel Finis Afrique, George de Bourges dice a Guglielmo di Baskerville, Ix sunt leones vuol dire andare dove non è permesso, dove non è possibile. E mi vengono in mente le frasi dette poco fa, perché anch'io quando sento un non è possibile mi accendo e torno ai miei 15 anni e torno alle esperienze che ho fatto, quando da giovane studente di un istituto tecnico pensavo alla filosofia, che poi è diventata uno degli aspetti più importanti della mia vita. E all'ITIS, per chi conosce il sistema scolastico bresciano sa cosa intendo, parlare di filosofia e portare come prima materia l'esame di maturità, lettere con Dino Buzzati come autore non era una cosa da tutti, sicuramente non da un perito industriale. E questa paura di portare qualcosa di nuovo che ci attraversa, fare qualcosa che non è permesso vuol dire essere resistenti al cambiamento, o meglio, non fare essere resistenti al cambiamento. Essere resistenti al cambiamento diventa un enorme problema, perché tutti noi nel nostro piccolo tendiamo ad essere resistenti al cambiamento nel momento in cui ci troviamo di fronte la scritta Ixunt Leones, ci sono i leoni, non ci posso andare, non ho le risorse, non ho i finanziamenti, non ho le persone, non ho le competenze. Quante volte da imprenditori ci siamo detti queste cose e quante volte da imprenditori siamo stati capaci di andare oltre quel confine e andare avanti ed è questo quello che dovremmo fare adesso. E c'è un'altra parola che voglio portarvi all'interno di questo viaggio. Rigenerare. Si parla di rigenerazione, ma rigenerare nel suo significato vuol dire riportare alla dignità che era presente prima. Allora, se parliamo di aree dismesse, e Brescia ne ha un'infinità, e c'è un bellissimo progetto che si chiama Campus, che va in quella direzione, queste aree ci chiamano, ci implorano di essere riportate alla loro dignità. E noi non possiamo sottrarci. Ecco perché il progetto della Cittadella vuole entrare in un'area dismessa, tra le tante che abbiamo, che dovrà essere individuata, non sta a me decidere quale, e riportarla alla sua dignità. Riportarla a poter dare lei stessa un contributo alla crescita della nostra città. E quando parliamo di città, mi piace dire una frase che ho letto in un libro che recentemente mi ha regalato un amico, che è un libro di Don Fabio Corazzina, e c'è un'espressione di città che a me piace tantissimo, ve la leggo. Una città non si misura dalla sua lunghezza o dalla sua larghezza, ma dall'ampiezza della sua visione e dall'altezza dei suoi sogni. Ecco, Ixunt Leones diventa il sogno di questa città perché noi siamo leoni, siamo i figli della Leonessa. Quindi Ixunt Leones non è più un qualcosa di sconosciuto. Ci siamo noi, ci sono le nostre competenze, la nostra voglia di fare, la nostra voglia di stare insieme, di superare i limiti che vengono dati dal nostro egoismo, per certi versi, dalla nostra età e anche dalla nostra incapacità a volte di guardare oltre. Allora abbiamo una visione che va oltre e insieme l'abbiamo sognata. Ora dobbiamo costruirla. Together for future. Grazie. Bello Giancarlo. Prima abbiamo parlato appunto di pensiero sferico, abbiamo parlato di visione, abbiamo parlato quindi dell'approccio di mettere insieme diversi sistemi, il sistema della produzione, il sistema della ricerca, il sistema della pubblica amministrazione, che l'abbiamo fatto la similitudine con il corpo umano, il sistema nervoso, il sistema scheletro muscolare e i vari organi. Bene, a questo punto esce l'animo, esce l'ingegnere, l'ingegnere che dice a questo punto abbiamo avuto questa visione, siamo riusciti a volare alto, ora dobbiamo trovare la soluzione, applicarla e farla. Allora, che cosa facciamo? Facciamo delle cose che non abbiamo. Lasciatemi dire da ingegnere, dico ad esempio Brescia ha tante virtù, ma ad esempio possibilità e strumenti, ad esempio non ha un laboratorio elettrochimico così importante da poter realizzare, ad esempio seguire la transizione energetica, a supportare specialmente le piccole aziende a testare, non so, idrogeno, metano green, le batterie, dobbiamo farla. Abbiamo start up che vogliono crescere e nascere, ma abbiamo praticamente il CSMT è sapro, quindi dovrei trovare tra l'altro nuovi spazi. Dobbiamo riuscire ad esempio avere anche dei laboratori dove le piccole aziende, specialmente a loro diciamo, dobbiamo rivolgerci, si possono trovare dove poter fare delle prove, dove poter testare ad esempio il digitale, dove poter testare dei nuovi materiali, le nanotecnologie. Bene, queste cose mancano, dovremmo farle. L'approccio tradizionale sarebbe che ad esempio i laboratori si facciano presso l'università o i centri di ricerca o le start up vadano ad esempio in ambienti da incubatori, CSMT o altri. Quindi l'approccio tradizionale è dislocare là dove sono seguendo quello che avevamo detto all'inizio, dei silos che rimarrebbero, io dico, lasciatemelo dire, dei bellissimi silos a sé stanti. C'è bisogno invece, secondo noi, di un approccio trasversale che metta in comunicazione tutto questo. E quale occasione migliore se fisicamente le metti insieme e ti costa uguale, anzi meno, almeno anche in costi di struttura. Mettere insieme nello stesso ambiente laboratori, ambienti per ricevere le start up, ad esempio una cinquantina di alloggi, un centro di calcolo potente. Come si fa a seguire la transizione, il concetto che dicevamo della virtuale, tutto se non ho la possibilità di... e poi lo rendo fruibile a tutti. Il centro di calcolo è fruibile a tutti, trasversale alle scuole e ti collega a livello anche regionale. Si collega con il MAID, si collega con Cineca. Quindi facciamo rete. Come lo facevano le botteghe nel Cinquecento? Non lo facciamo noi oggi? E come lo puoi fare allora? Io dico, abbiamo l'idea? Sì. Abbiamo la necessità di farlo? Sì. Dobbiamo avere il sogno di riuscire a renderlo concreto, a concepirlo questo sogno. Uno dice, poi la difficoltà sono trovare finanziamenti, ma intanto certo, dobbiamo tutti uniti dirci sì, abbiamo bisogno di quello, quello è il progetto strategico, vogliamo perseguire quello. E con forza andare poi a cercare e trovare il modo di farcelo finanziare. Ma se non siamo convinti noi su questo, com'è possibile che poi troviamo i fondi? Intanto quindi è necessario convincerci della necessità fondamentale che queste realtà, queste facilities, dico un laboratorio, dico un centro di calcolo, perché il teatro? Il teatro, i giovani allenano le loro soft skills, non soltanto le hard. Diciamo poi la contaminazione, la contaminazione di produzione arte. Quindi tutto questo messo in uno stesso ambiente. Vi rendete conto della potenzialità enorme che avrebbe in una stessa ambiente centinaia di giovani come quelli che avete sentito prima, mi hanno fatto sentire giurassico, mi hanno fatto venire la pelle d'oca. Tutti quelli li mettete insieme, ma vi rendete conto? È un ciclotrone quello di energia e di idee. Perché non possiamo farlo? Questo vogliamo fare. Ci sono le condizioni. Se non lo fa Brescia, chi lo deve fare? La Toscana è stata bella cinquecent'anni fa. Oggi queste cose non le sogna nemmeno. C'è mio fratello che vive lì, mi dice tu mi parli di cose che io nemmeno. Ed è questo. A Brescia tocca quindi a questa opportunità, ma anche a questa responsabilità, perché lo può fare. E questo è un sogno fattibile, che poi innesca un processo straordinario. Ho usato non a caso il concetto proprio del circotrone, proprio accelera le idee, le mette a fattore comune e diventa a questo punto un elemento portante per poter innescare il nostro futuro. Grazie.